E che uccello è quello? Ma, infatti è vero che potrebbe assomigliare ai kiwi che però, meglio, sono piccoli. No, no, i kiwi sono bastanti... Ma può darsi che sia un risultato politico. Ma l'Australia è un paese democratico, però. È vero. Ah, è questa l'Aguel. Grazie. 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 Grazie per la visione!